Ieri va della giornata, razzarimmo un'eridate, con bravure io talvis, la mia tua parinti amici, tutti insieme in vecchiazzute, ascoltarimmo un'estoriute, con tizzo se muistidi, ogni dì si fa scossì, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamà, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamà, e non sta alla lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamà. Pronto? Pronto, mandi Chiara, ho sei d'aria. Mandi d'aria, c'è molto testo. Beh no, io ho sei tutta contenta, per via che vuoi, o sì, ai 7 dicembre. Ah, e allora, ci vuoi dire? Per c'è, i 7 dicembre, resti tu di essi più contenti che in queste altre giornate? Ma c'è muo, per c'è, per via che domani, o sì, ai voti, e ai voti, per tradizione, si scomincia a preparare tutto al Nadal. Vieni, resti tu lì di me, aiutami a decorare la chiesa? Scherzi tu, o arrivi a colpa? E gli è sempre una grande emozione a decorare la chiesa per il Nadal. Pronto? Sì, orti! Sì, orti! Mandi, Chiara, disimi! Ascoltimi bene, vieni a resti tu aiutare D'aria a preparare tutto per il Nadal lì di lì. Mi piace un grum la tua idea, o arrivi in tu Marilamp! Quante ducce che tu pensi che puoi di fare la chiesa a D'aria? Mandi, D'aria! Vieni, così! Scominci per decorare l'arbre, che a me mi piace tanto. Sì, D'aria, guarda l'arbre! Vieni, si orti! Ma... Ma c'è l'obbeise che chi? Non ho mai veduto un lunare dall'avvento! All'è un calendario che mostre i dischi che manchino per il Viglio di Nadal. Si tratta di un'eusanza e un'evore sparnicciata in tal paese di Lengueto d'Estia, dedicata ai frutti per accompagnare il periodo di spietta delle grandi fieste. I lunari di questa genera sono componente di 24 barconette in questo caso di Sacchettos, scominciando i primi giorni dal mese di dicembre. In altri casi i lunari scominciano le prime settimane dalla venta che stanno all'attaccata ai 2 di dicembre. Per solito si chiamano i chocolatini dentro di ogni barconette. Spiegami meglio! Oh, dunque! La prima di di dicembre si viene il Sacchettos numero uno e si mangia il chocolatino alle denti. In te secondedì il secondo e via in davanti fino ad arrivare ai Vigli di Nadal. E qui è il che è il Fortunato che può mangiarlo ogni di? Non esiste un Fortunato! In tune fa me di più i frutti si fa Saturni. Venga stai, un'edì però! E dunque, questo comincia? Fasi in racconta! Dai! Sante stricche, dippi, ticche, dippi, tocche, carobule, asinele, buine, vite, forachele! Sante stricche, dippi, ticche, dippi, tocche, carobule, asinele, buine, vite, forachele! Nooo! 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 Daria! Nooo! 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 Musica Le dicembre un bel mese C'è calquarte luce avesse Il Nadal con blanchi smonts Tante neve con flox tarons Tant contenson i fruttins Cade corrin ducchi pins Pulis luce che andellutis Tant color sculis balutis Le dicembre un bel mese A torre al fogo la rifrusse i granchi a stan A ciampe o a trete ai credi si spiete Sante luce e benedete A ciampe o a trete ai credi si spiete Sante luce e benedete Musica Le dicembre un bel mese C'è calquarte luce avesse Il Nadal con blanchi smonts Tante neve con flox tarons Tant contenson i fruttins Cade corrin ducchi pins Pulis luce che andellutis Tant color sculis balutis Le dicembre un bel mese A torre al fogo la rifrusse i granchi a stan A ciampe o a trete ai credi si spiete Sante luce e benedete Sante luce e benedete A ciampe o a trete ai credi si spiete Sante luce e benedete A ciampe o a trete ai credi si spiete A ciampe o a trete ai credi si spiete A ciampe o a trete ai credi In cinque secondi Sesso pronti? Allora...vie! Gli sbaluti spicchiati sull'arbol? Ayer in dis Beh, vi sono indovinati Brav Com'è, provate a contare In domenica 6 secondi Troppo pacchi regali Che sono in te stesse immagini di prima I pacchi, ayer in dodis Io vi avviso contà sdug Mariute e li scocci Testi e illustrazioni di Miriam Pupini La grame edizioni E gli egnotti Mariute, egli lade a dormì dopo essi si divertìde alla fiera dei sanz E vi vedo tutte le strie a vigniù dal tor Dù l'intor la so chiasute Tutto un cidino Dome la cibuita di tanto in tanto E manda il suo riclan A due di plui I arbi Ampierdutli slurfeis E in talort Ha son restats Dome un squattri verzutins E un'eschiria di coci Che ha spietto in via si chiapà di su Prima che vengi la glace Ai sanz Non si ha di spietarsi altri aromai Cal vendongi l'invier Mariute In tal solietud di rose Si insunie di svoia primevere Di gioiadis in plenistà Al rivelajar Fred Ed ispettoso Che si metta a toccare sui veri Mariute Mariute Sveiti Venga a vedere se il succede che è fuori Mariute E io vengo sento Si sfriò le sue glute Plenistissù E scolte quel birbant dal suo amico C'è astuto di sberla I domande la piccinine Anen Anen avviò dinta l'ort I dischel Mariute E pete un sal fur da liet E io Abbassi un chiamese Mariute E chiamine di lunghi Il stroppo dei sverzi Uuuh C'è pure Un spirt Un spirt E berle Col terrore intai voi Vi odinti un alc Che gli si pare Denant Laia Al rid Al soffle Al sgurle Che leone maravè Mariute Mariute Occhio che ti chiappe I sberle I sberle I sberle Che il birbant Mariute E sbole vie Di corse Talmieci Di che schier E di musati Scappare In spirt A ciasse Stris E l'agno Stris E di Anche Mol Aja Divertit Viel Che Lies Volete Spauride Ma biel che svole vie, stris e spirs, calpar che i corredi in daù, biel plancut si mostrin perché il casson far da buon, coci e cociutis, con i loro fueati ormai secchi e i ramaschi s'imberdeati su paipai come braccio in pendolone. Oh, Mariute, Mariute, ti aspettate proprio biele! La mestre, i domande ai sierlese, descrivi un tema con questo titolo. Che faressi tu se Barbe Nadal ti regalasse un milione di euro? Pierut, al chiale fu le barconette e non scrive noi. In allora la mestre, i domande, ma Pierut, perché non hai fatto noi? Eh, per cercare le propri cieco fasaresso fos milionari! Pierut, i domande a sopari. Poi, poi, c'è chiate o che stanno sotto l'arbu? I spiastrelli? Come sempre, Pierut! Sei so boi di Fevela per Furlan? E direzione di queste elettroniche Maman? CaiutTVstar.com Occhio! Il telefono talvatignut in orizzontale e no in verticale! Ciao! 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 Orecchisce noi Fa l'amor Sa stu vigli? Voi ho signa il siel di dicembre Venga stai la giornata prima di di De Madone Dunque voi per tradizione si scomincia a decorare la chiesa A preparare due calcoventi per il Nadal E a prontare anche l'arbor e il presepi All'estate par da boh un tanto di Elfa Tutto questo in compagnia di Chiara e di Sir Timp Di fatto con loro all'estate par da boh un tutto più divertente Pense che a un serpente Sir Timp ha attaccato a mangiare i squindoni Tutti i cioccolati che aveva preparato i pallonari dalla vento E per ore di essi scoperto Ha combinato un patatrac maraviglioso Ha fatto fin tremare i nevea Un tagliottinell Per aiutare a decorare A questa maniera la chiesa per il Nadal Io C'è brinconca le giurte Però C'è ridata Mamma Ieri va della giornate Masarim un'eridate C'è un bravore Io tal di La mia tua Parinti amici Tutti insieme in vecchiazzutte Escoltarim un'estoriute Conti insieme in vecchiazzutte Ogni dì si fa così Tutti i miei dovranno urlare Non sta pierditi papà Non stalla lontan lontan Sta fer piacchia la mamma Tutti i miei dovranno urlare Non stalla lontan lontan Sta fer piacchia la mamma Non sta lontan 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 Sta fer piacchia la mamma